Con la modifica dell'emendamento 112, il quale prevede lo stanziamento di fondi speciali ai comuni dichiarati zona rossa, tutti i 12 centri abruzzesi chiusi nei mesi scorsi causa presenza di focolai da covid-19 potranno contare sugli aiuti economici stanziati dal governo nazionale. Infatti è stato approvato in commissione bilancio alla Camera dei Deputati l'emendamento per il sostegno economico e sociale a favore dei comuni fortemente colpiti dall'emergenza sanitaria. Si tratta di un fondo di 40 milioni di euro da ripartire tra i comuni dove a causa di specifiche disposizioni statali o regionali sia stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento di tutti gli individui per un periodo non inferiore a 15 giorni. Dunque per i comuni di Arsita, Bisenti, Castiglione Messerremondo e Montefino in provincia di Teramo, Civitella Casanova, Elice Farindola, Montebello di Bertona, Penne Picciano in provincia di Pescara, la azione di Villa Caldari di Ortone in provincia di Chieti, arriverà il tanto atteso ristoro economico che verrà calcolato sulla base della popolazione residente e del numero di casi di contagio e di decessi da Covid-19 comunicati dal Ministero della Salute e accertati fino al 30 giugno 2020. Gli aiuti dovrebbero arrivare in tempi stringenti, visto che si tratta di somme per l'anno in corso. Si mette così la parola fine sulle polemiche generate nelle scorse settimane, quando con un primo decreto nazionale ci fu la decisione di escludere dalle risorse economiche tutti i comuni che avevano avuto provvedimenti di chiusura inferiori a 30 giorni. Siamo molto soddisfatti del fatto che sia stato approvato un emendamento che va a rinserire dei fondi per tutte quelle zone rosse riconosciute dalla regione e dal governo che all'inizio erano stati appunto esclusi. Nel decreto di lancio quindi si avrà un plafone di 40 milioni, questo grazie sicuramente al Ministro dell'Interno Lamorgese che ho incontrato con il Senatore D'Alfonso alcune settimane fa e in questo incontro si era preso l'impegno di andare a trovare le risorse all'interno del decreto di lancio per aiutare tutte le zone rosse d'Italia e grazie al lavoro di alcuni parlamentari abruzzesi che con la massima attenzione e il massimo impegno hanno avuto la sensibilità di lavorare affinché queste risorse fossero rimesse all'interno di questo provvedimento.